Naturalmente il Presidente federale a Tarrete, dalla bandierina è pronto a battere Bohine. Palabola, Arquata, c'altano i parecchi e arriva a scaraventare il gol Dalun. Parte il lancio molto lungo dove... Ammunizione per Mancini. Rivia intanto di Ferri, scattiva di triangolo dei nostri Bohinen, entra in area Bohinen, salta anche Paresi e mette dentro il 2-0, grande gol di Bohinen. Paresi. Ila Lombardo sulla destra, parte il cross, Schillacci, gol! Gol di Schillacci al 33esimo della ripresa.